Questo video riguarda i migliori tre compressori verticali. Il vincitore della qualità nel nostro compressori verticali va all'Ainel TCA C240. Il TCA C240 OV è un compressore versatile che, con il suo design verticale e salvaspazio, non dovrebbe mancare in nessuna officina o garage. La pressione di lavoro può essere regolata fino a 10 bar per mezzo di un riduttore di pressione e fornisce un buon servizio per una vasta gamma di lavori di aria compressa. La sua pompa senza olio non necessita di lubrificazione e quindi richiede una manutenzione particolarmente ridotta. Questo significa che il compressore può essere trasportato in qualsiasi posizione. La pressione di lavoro regolata del compressore è indicata da un manometro e prelevata all'attacco rapido. La mobilità e la facilità di trasporto sono assicurate dalla staffa di fissaggio e dalle grandi ruote. Lo scarico della condensa dalla caldaia per mezzo di un tappo di scarico permette una comoda manutenzione. I piedini antivibrazione impediscono le vibrazioni e riducono il rumore. Grazie alla valvola di non ritorno e alla valvola di sicurezza, la sicurezza dell'operatore è garantita. Inoltre, un supporto per riporre temporaneamente gli accessori mantiene l'ordine in ogni momento. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente qui sotto nella descrizione del video. L'alternativa è il Mekhafer compressore. Mekhafer compressore verticale potenza 2 cavalli vapore autolubrificato 10 bar. Originale e innovativo ideale per soffiare pulire, gonfiare, irrorare, lavare due motori HP, uno cilindro rigido coassiale senza olio serbatoio 50 L, compressore verticale Mekhafer 425.090 da 50 litri. Motore da 2 cavalli vapore. Fornisce 125 litri di aria al minuto. Ha una pressione di 10 bar. Con due ruote e maniglia per spostarlo facilmente. Non è fornito di accessori. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente qui sotto nella descrizione del video. Il vincitore della Performance Premium nel compressori verticali è il Stanley D200. Compressore non lubrificato, che non richiede manutenzione e rispetta l'ambiente. 10 bar di pressione per una macchina ideale per tutti i lavori di casa e per il bricolage. Ingombro limitato grazie al serbatoio. Verticale con una riserva d'aria di 24 litri. Facile da trasportare grazie alla maniglia incorporata e al serbatoio verticale salvaspazio. Copertura in plastica con integrati. Piedini in gomma per una maggiore stabilità in fase di utilizzo. Se ti piace il video apprezzeremmo un pollice in su o anche un commento.